Penultimo appuntamento della rassegna estiva del gruppo dei Dieci, l'appuntamento è per venerdì 30 agosto. Sì, allora siamo sul rettilineo finale della nostra rassegna Summer Time, abbiamo gli ultimi due appuntamenti, il primo di questi è proprio il venerdì 30 agosto al Barragno, in un'altra grande location delle nostre, insomma ecco dove accoglieremo Mimolo Casciulli in questo concerto che ci permetterà ancora una volta di esprimere tutta la nostra grande abilità per consegnare ai nostri territori della grande musica. E quindi, come dico, ore 20, come abbiamo sempre fatto nelle ultime stagioni, un ringraziamento a tutti, un ringraziamento anche a voi di Telestense per queste situazioni, perché voglio dire che poi alla fine della corsa ci avete sempre accolto e ci avete sempre dato modo di esprimere la nostra opinione e vogliamo sempre che così attività come la vostra siano sempre vicino a delle attività come quella del gruppo dei Dieci che da privati cerchiamo di mettere a condivisione pubblica, diciamo così, quelle che sono iniziative, voglie e la volontà anche vostra di supportarci e grazie ancora per questo supporto che ci avete sempre dato in queste occasioni. Alla ricerca del sentimento perduto con Mimmo Locasciulli, ma anche con Marco Di Marzio. Eh sì, da questo si capiscono molte cose. Intanto che non è un concerto di un rapper. Stiamo parlando di sentimenti, io nei testi ultimamente non sento tanta questa presenza dei sentimenti. Beh, noi invece li cerchiamo, li cerchiamo sempre e siamo felici quando riusciamo a trovarli attraverso l'opera artistica di musicisti come Mimmo Locasciulli. Mimmo è già venuto da noi, allo spirito, tornerà questa volta accompagnato da Marco Di Marzio al Contrabbasso per cui già una formazione diversa, altra volta era solo pianoforte e voce e ci trasmetterà tutte quelle sensibilità che sono fondamentali secondo me e secondo il gruppo E10 per sopravvivere. Contiamo, sappiamo già che ci sarà un pienone per cui che tutti coloro che saranno presenti possano condividere questa ricerca, ricerca che poi è data da tanti fattori. Siamo credo in un periodo molto difficile se andiamo a guardare fuori dai nostri concerti e pertanto mi auguro ovviamente che possa servire una serata, certe volte per ristabilire le giuste distanze con i problemi e con le voglie che abbiamo. In questo, se permettete, mi unisco anche al fatto che so che Telestense sta attraversando anche in un momento particolare, allora io vorrei che i ferraresi che sono alla ricerca del sentimento fossero anche alla ricerca di una logica nel tenere in piedi delle cose che hanno dato tantissimo alla città e che potrebbero dare altrettanto, cambiando, modificando quello che è, però è una città che ha bisogno di una presenza fondamentale che è la stessa presenza che permette a noi di parlare stasera e di presentare un bellissimo concerto. iscriviti al canale